cari amiche e cari amici io sono sciopà voi non lo so ma a me sono sciopà ma sono anche contenta adesso mi scappa uno starnuto sapete come si fa a bloccare uno starnuto bisogna arricciare la lingua verso il dietro o indietro e spingere il palato con la punta della lingua e spingere il palato non lo voglio farlo starnuto me l'hanno insegnato la sera prima di operarmi di appendicite c'è uno sbreco che sembra un cesare allora no non vi voglio parlare di cose così brutte vi voglio raccontare così no niente vi faccio il saluto prima della nana che non so quando prenderò sonno è perché io non sono piena di caffeina ma è come se lo fossi ho un carico di adrenalina addosso che guai mi è successo di tutto oggi ho perso l'autobus non ho mai perso l'autobus da che vivo qua hanno saltato una corsa quindi io non c'entro ma oggi sono stata proprio stupida io è stupida me ma a parte che è passato anche leggermente in anticipo e niente l'avrò visto diecimila volte all'orario del bus sono uscita in anticipo perché c'avevo la menu rispetto a quello che pensavo ecco era in anticipo perché ho portato con me la minuscola e non l'ho lasciata a casa in compagnia perché era piuttosto nervosa la mia bambina poi c'era il brutto tempo no vabbè vieni con la mamma vieni e meno male perché c'è stato un tuo nome oggi a Viterbo che qui è stata accata da bagliare ho fatto contato i secondi adesso adesso parte a bagli e vabbè mi ha un pizzico al naso ho un bollone dentro al naso che mi fa un male guai allora ho perso l'autobus ma me ne sono accorta con un grande canno vabbè sarà in ritardo poi guardo io sempre come gli anziani guardo riguardo gli orari con cazzarola partiva dieci minuti prima rispetto a quello che pensavo e non l'ho visto passare se fosse passato puntuale l'avrei dovuto vedere perché ero per strada non l'ho visto quindi è passato qualche secondo prima qualche minuto prima e allora è presa dal panico perché io avevo l'evento oggi pomeriggio non è che c'è un autobus ogni tre per due perso quello ti saluto ciao addio non mi funzionava il cellulare a un certo punto non avevo l'audio nel cellulare io non ho toccato niente né prima né dopo né durante pom niente non mi funzionava e non mi partivano i messaggi che l'attivazione degli sms dopo anni con fast web io ancora non ho i miei giga fuori casa non posso usufruire dei miei giga adesso devi perdere un'altra mezz'ora col call center vediamo di risolvere questa questione io dipendo dai wifi e quindi non potevo chiamare cioè io chiamavo non sentivo gli altri sentivano me poi vedevo i secondi no tanto tanto quanto sia la comunicazione la conversazione niente non mi funzionava l'altoparlante non sapevo come fare non mi aspettano a me non va di lasciare la gente per strada il panico minù i borsoni cioè il carrellone grosso che poi ve lo faccio vedere la minuscola la mia borsa e la possibilità di dover aprire un ombrello tempo poco perché stava già gocciolando in ordine sparso e senza una grossa enfasi però era lì lì era un buio e un freddo a un certo punto mi è preso il caldo e dal caldo è arrivato il vento freddo è così che fa sti giorni e quindi sono corsa verso il new bar ho detto becco qualche vecchietto al bar e chiedo aiuto e ho trovato che si sa che ho detto vecchietto poveraccio ci rimane male ma il signor Giulietto con il quale mi scambio il caffè cioè neanche mi scambio il caffè io lascio un caffè pagato e poi Lorenza vieni qua che ti offro un caffè e quindi è una cosa buffa così oppure gli lascio una birretta pagata al bazzarino qua vicino stasera glielo lasciate pagate tre a parte che sono a buon petto ma perché mi ha salvato dalle pesce stavano lì i vecchietti a pennichellare sotto al gazebo del new bar io sono nata di corso con il mio carello e la minuta sotto il braccio l'amiche sentiva le energie non lo so dove le ho ricavate tutte ste energie comunque sono arrivato sotto aiuto qualcuno mi aiuti mi guardavo che sarà ferita dormivano dempeno erano tutti seduti sapete proprio quando c'hanno la cecagna che gli vedete la palpebra giù i colli incassati oh Giulietto ho bisogno di un passaggio a Viterbo che per caso me lo può dare poi guardavo gli altri che hanno subito passato la testa come dire noi non ci siamo tacci l'ora però ha detto ma sì Lorenza vieni che ti porto io anzi quando hai bisogno ma dire sì certo io prendo gli autobus ci manca che vado a chiedere passaggio se essere a manca ma ero disperata disperata non avrei lasciato nessuno per strada e nessuno mette baby in un angolo e quindi wow meno male sono arrivata anche in anticipo ho fatto fare anche le passeggiatine a menu ma che quando cambia ambiente lei non fa la pipì e quindi abbiamo fatto avanti e andare abbiamo fatto andare davanti al luogo dell'appuntamento pomeridiano e niente da fare abbiamo occupato una nicchietta fuori non si poteva da stare a parte la minaccia della pioggia ma c'era il vento e questo fuori un freddo avevo poi ero caldo caldo freddo freddo caldo vabbè comunque abbiamo occupato una nicchia ci siamo apparecate è arrivata abbiamo aspettato Aleandra è arrivata Grazia è arrivata presto presto meno male e abbiamo chiacchierato l'argomento del pomeriggio era la tessitura e la tessitura come applicare la tessitura signori tessere non vuol dire necessariamente utilizzare telai né con subbi né a cornice si può tessere su support capire il tessere vuol dire wow ho spiegato tutto certo che no amica devo anzi divertente e quindi abbiamo parlato di quello e quindi c'è un progetto corsi in corso le due signore non sono le mie amiche allieve tutte e due non si conoscevano tra loro non siamo mai riusciti a combinare eventi dove loro si potessero incontrare e invece ce l'abbiamo fatta la mattina e Alejandra si è scapicollata per aggregarsi anche il pomeriggio che è stato breve perché era più breve tutto insomma oggi e quindi siamo state bene mi hanno accompagnato all'autobus mi hanno portato i pesi abbiamo continuato a chiacchierare fino alla ma qual è la fermata è quella non ci scapisce niente a Viterbo con le paline delle fermate scritto in piccolo ambigue un accidente comunque ci siamo divertite come delle mate guardate oggi ci siamo proprio divertite io sono qua domani sarò senza voce ma mica mi sono messa a urlare è stato proprio divertente sono troppo simpatiche guardate siamo stati proprio bene avevamo manuali avevamo materiali ci ho ricavato due berretti che domani regalo perché mi ha detto la mia amica ce l'hai dei bambini te da regalare questi berrettini fatti carini con dei bei colori io non me lo sono misurato non lo voglio tenere e uno lo regalo qua alla diletta che è tanto carina quella bimba che mi ha fatto da modella col suo berrettino su instagram c'è la menù che fa Versace che c'è è stanca la mia stessa è distrutta oggi quando fa caldo lei si stanca amore poi tutte queste agitazioni adesso sto aspettando degli amici che devono rientrare la mia casa è diventata un ostello lo sarà per un po' di giorni e poi sono tutti in silenzio non si fanno sentire non lo sa nessuno è troppo carino ho un po' di amici da Genova dalla mia liguna anche un po' dalla Lombardia vabbè comunque è stato troppo divertente anche cambiare i nostri programmi della giornata io l'ho indirizzato io ho fatto una mappa ho regalato delle mappe e ho fatto la via dello shopping secondo me a Viterbo dove merita andare a vedere cosa shopping lo uso sempre questo termine in modo molto ironico perché per me andare a fare la spesa oppure assaggiare qualcosa che potrebbe incuriosire i palati oppure andare dove io stimo dove ho fiducia la pizzeria a taglio King King come si chiama? aspettate no oi mamma aspettate oggi l'ho imbroccata ci sono andate da vai da marema bella comunque è una pizza taglio che si trova nel corso di Viterbo vicino a Piazza delle Erbe poco uvoli le linee dintorni poi dove ho spedito? avevo spedito al mercato agroalimentare comunque ho detto io vi do due dritte poi arrangiatevi e poi si sono anche sparpagliati oggi ho fatto 18 caffè quella del 18 caffè è memorabile con 1800 caffetiere e ho tre fuochi nella mia macchina avete visto la mia macchinetta del gas da paese è quella che sotto non ha il forno quella col coperchietto tre fuochi lì tu me l'ha regalata alla Titti l'anno scorso mi piace avere le cose delle mie amiche io della mia amica Stefania ho un piumino e un giulet ecco e della Titti ho due magliette ad esempio poi vediamo della Paola ah di vestiti non ho niente della Paola ho la busta porta lavoro da aspettate ora ci arrivo sono rimabita stasera non mi ricordo neanche i nomi dei miei nipoti aiuto come non mi viene a mettere non è patrista vabbè quando mi viene a mettere allora l'amica che mi è venuta a trovare dall'Emilia Romagna a dicembre con parte della sua famiglia che sono venute a festeggiare l'anniversario a Viterbo lei mi ha portato una cosa molto carina fatta ad uncinetto una blusa verde e un golfino a me piace cioè come quando se voi simmate le persone è come quando ci si scambia vestiti tra amiche o tra sorelle io adoro fregare le cose che ne so di un mio amico c'ho una camicia davvero oh che bello sto mangiando fragole e pucciate nello zucchero diceva la mia amica Steffi alla Steffi la mia glicemia chissà dove l'andrà stasera sono stanca ma sono così carica che non riesco a scaricarmi e sono qui che mi perdo e sto facendo liste di manuali da ordinarmi sto facendo dei piani per un corso su misura di tessitura che possa stimolare le persone quindi sarà un corso di tessitura per queste due amiche dove alcune lezioni verranno fatte insieme e altre no perché hanno orari diversi cercheremo di fare una cosa che le diverta che le stimoli perché per me insegnare il gesto del tessere il mondo del tessere è una roba bellissima e soprattutto non fa sprecare soldi alla gente nell'acquisto di telai che non userebbero mai ecco apprendere il gesto del tessere vuol dire lo ripeto wow sì wow ma anche come vivere il mondo ma è diverso rispetto alla maglia all'uncinetto è una cosa a tutto un mondo completamente diverso se si può somigliare il mondo del crochet con quello della maglia è la tessitura tutta un'altra roba e mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace poi abbiamo parlato di che cosa abbiamo parlato giustamente di materiali ho portato a far vedere vari attrezzi oggi ho portato anche degli fuselli particolari in legno naturale che mi sono stati regalati abbiamo parlato di canapa ho fatto vedere una canapa filata a mano spezzina avevo con me il lino dell'unificio cannaficio nazionale che magari non so se l'hanno visto ho tirato fuori di tutto poi oggi altro che Mary Poppins dal mio carrellino della spesa delle meraviglie avevo la mia canapa che vedete qua davanti qui abbiamo c'è il mio lino dell'unificio cannaficio nazionale tinto con un bagno di indaco è un prototipo tra l'altro e poi il gomitolino dei cotoni di tiger che vedete qua in cima alla canapa poi questo bellissimo manuale giapponese che mi è arrivato dalla mia nipotina non l'ho tirato fuori però perché abbiamo parlato di tante cose a me piace organizzare queste cose perché non sono mai scontate è tutto un interagire si partecipa si coinvolgono tutte le persone e quello il mio intento va sempre a buon fine e io sono felice di questo mi piace questa mia capacità me la riconosco mi piace perché vuol dire vedere che le persone sono a loro agio vedere che persone che non si conoscono vengono coinvolte e si gioiscono della situazione che riflettono che pongono domande che che danno degli input è venuto benissimo è proprio bello è importante il numero no ma diciamo troppe persone sono difficili non dico da gestire perché ho un termine brutto è un atteggiamento brutto ma da coinvolgere sì o da mantenere vivaci o da da far stare bene quando si è in tanti diventa difficile e se avesse partecipato una sola persona sarebbe stato un flop no non lo è mai perché comunque lo spirito di questa giornata è lavorare al pubblico parlare di questi argomenti al pubblico quindi si può fare tranquillamente in ogni luogo si può continuare a farlo e lo faremo anche domani io lavoro sempre al pubblico per me non è una novità ma neanche per le mie amiche cioè tiriamo fuori i nostri lavori si chiacchierano io dove mi trovo mi trovo lavoro lavoro in treno lavoro ovunque c'è sempre qualcosa come non ho bisogno della giornata mondiale perché così mi sento giustificata carica oppure non so c'è un'adesione che può sembrare ridotta ma che non è importanza non è niente non è a pagamento quindi non è che più persone arrivano più te pagano e più guadagni quindi arrivano meno persone rispetto a quello che ti aspetti guadagni di meno certo che ci si promuove è un modo per promuoversi per chi come me ama insegnare ama come si può dire comunicare in un modo anche didattico ma ci si conosce ci si approfondiscono le conoscenze quindi va bene sempre e solo io sono stra soddisfatta tra l'altro perché quando ho visto arrivare le bambine stamattina quando c'era quella mamma che faceva dormire e quando vi trovate le persone dietro alle orecchie dietro alle spalle che ascoltano facendo finta di niente è una cosa bella è proprio è stato bello a un certo punto si è proprio diffusa una bella energia io non so di come riesco a stare ancora sveglio perché poi sono 8 dormito male la menu c'è un suo momento avevo una mosca che non mi faceva quietare sapete quelle piccole che ronzano come i calabroni però ecco avevo l'insetticida vicino perché ho dormito con la finestra aperta quindi le nebbie che sono entrate in casa l'umidità che l'avverto oh mamma mia santa e poi è faticoso io ormai non ho più le energie di una volta mi affatico veramente tanto nel fare tante cose non riesco più a sistemare tutto quello che dovrei sistemare oh santo cielo però le lezioni le farò qua a casa si faremo anche delle esterne uomidi e donne faremo anche delle esterne abbiamo in programma un picnic qua a parte che ho un programma un picnic in in Toscana con una mia amica e allieva amatissima l'anno scorso siamo state testimoni di nozze su e di suo marito io e Camilla ad agosto mamma mia l'unica uscita che ho fatto ad agosto io in quel periodo caldo siamo stati bene e abbiamo un programma un picnic a oi mamma non mi ricordo come si chiama il paese andiamo a finisce per a il paese di giovanotti e di rene grandi avete capito e a me non mi viene mai in mente stasera non mi vengono in mente i nomi delle persone non mi vengono in mente come sempre sono rimbambita ormai e quindi abbiamo in programma un picnic lo dobbiamo fare e lo vogliamo fare e poi ho in programma un po' di uscite con i miei amici c'ho un po' di amici c'ho un po' di riguria in giro qua per una settimana tra la la tra la la sono contenta e basta vi saluto sono contenta sono tanto contenta sono contenta quando vedo le persone contente sono contenta quando posso avvicinare mondi che amo le persone sono contenta quando le persone si stimolano e hanno voglia di fare ricordo che chi fa chi costruisce chi chi si appassiona nel realizzare utilizzando la propria mente le capacità delle proprie mani non molto probabilmente non si dedicherà dedicherà a distruggere ecco perché realizzavo con amore degli incontri di gruppo per bambini gratuito il sabato pomeriggio a Castel Gandolfo era proprio una missione quasi un fioretto era proprio una cosa bella gli ho voluto bene a quei bambini che sono passati 20 anni anzi dai primi incontri quei bambini sono passati 23 23 anni e 22 i primi incontri 22 no 22 22 e mezzo circa e quindi bambini di 5-6 anni sono grandi quando mi ricordano quando mi mandano i saluti quando mi vengono a trovare quando i genitori Lorenzo ecco è una cosa è una delle soddisfazioni più grandi nella mia vita ne ho avute tante di soddisfazioni non solo accidenti e queste sono tra le più belle la considerazione il rispetto il ricordo nei bambini cresciuti e oggi quelle bambine che non hanno voluto fare la pesca nel sorteggio però poi si sono avvicinate e poi si sono sedute vicino sul divano e poi mi hanno aiutato a recuperare tutte le cose che erano mai viste conosciute mi passavano le cose e mi scontravano la mano quel contatto con quelle bambine è stato uno dei miracoli di questa giornata quando si conquista senza far chissà cosa la fiducia dei bambini ecco quello è un premio grande 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 è stato proprio una gran bella giornata e spero anche per voi chi l'ha vissuta così chi si è aggregato da qualche tra l'altro guardate che mica bisogna per forza iscriversi al sito la giornata mondiale si fa cosa stia facendo se siete bardate magari più colorate stiamo onorando la giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico è quello che ho detto oggi a domani a dio piacendo a domani